Buongiorno e ben ritrovati da LelioMinaia.com, nel nostro consueto spazio di presentazione dei prodotti Hi-Fi. Oggi vogliamo presentarvi questi diffusori da scaffale del costruttore inglese Bower & Wilkins e precisamente il diffusore più piccolo della serie 600, il 607S2. Volevo fare una sorta di unboxing, una presentazione appunto di quello che c'entra nella scatola, ma avendo una mano sola devo ottenere appunto la fotocamera, vado a step. Quindi praticamente adesso andiamo a vedere il contenuto della scatola. Una volta aperta la scatola, qua troviamo praticamente il manuale di istruzione, questo libriccino qua. Qua sotto troviamo i piedini di gomma adesivi 4,4,8 e delle spugne praticamente da infilare nel condotto refless. A volte mi chiedono che cosa servono queste spugne. Allora, praticamente il principio della spugna da infilare nel refless è quella di, tra virgolette, equalizzare il suono nella stanza dove viene collocata. E va praticamente a correggere soprattutto la gamma bassa del diffusore. Ovvero se il diffusore praticamente scende troppo in frequenza e vi disturba, potete inserire dentro questa spugna nel condotto refless, che tra l'altro qui è fatto anche a porzione, nel senso che questo cilindretto qua, che si può mettere o la parte esterna o questo qui insieme inserito per tappare definitivamente il condotto refless. Ma andiamo a vedere da vicino questi diffusori. Una volta fuori dalla scatola si presentano così. Naturalmente questa è una delle finiture disponibili. Questo OAC, ovvero dovrebbe essere la quercia, con questo pannello davanti bianco e sopra questo colore chiaro, color quercia. Il diffusore è molto bello da vedere, molto elegante, come d'altronde tutta la linea Bauer-Wilkins. Poi le caratteristiche degli altoparlanti ve le metto sotto il filmato. E andiamo a vederlo anche dietro. Ah, qui non ho praticamente sbucciato, diciamo tra virgolette, l'area, la copertura, perché vedo che è abbastanza sigillata. Volevo lasciarla, praticamente qua in negozio, per far vedere al cliente come praticamente è confezionato il diffusore. Comunque è una cosa di questo genere, su praticamente, su così. Adesso cosa qui è incastonato di sotto. Vabbè, lasciamolo così. Comunque la retina è di tipo di color grigio. E andiamo a vederlo anche dietro. Dietro troviamo una gran bella morsetteria, che come sempre può accettare cavo spellato, cavo con forcella o banana, togliendo praticamente il tappino lì in mezzo. E questi quattro morsetti per poterlo collegare in B-amplificazione o in B-wiring. Qua sopra il condotto refless. Sempre se il video vi è piaciuto, naturalmente, vi invito sempre a mettere il vostro pollice alzato in alto. Lo guardiamo ancora un attimo davanti. Iscrivetevi al mio canale YouTube e arrivederci al prossimo video. Lo guardiamo un attimo davanti, come ho detto, e fermiamo qua il video. Quindi, iscrivetevi al mio canale YouTube, ricordatevi di attivare la campanella, così sarete sempre avvisati dei miei contenuti, dei miei nuovi video. E arrivederci alla prossima. Grazie da LelioMinaia.com, Borgomanero in provincia di Novara. Grazie. 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 Grazie.